Intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Sono alcune delle accuse che hanno fatto scattare le manette per sette persone, arrestate questa mattina da carabinieri di Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia, di Matera, del comando provinciale di Monza-Brianza. Avrebbero approfittato di decine di braccianti e extracomunitari, quasi tutti abitanti della baraccopoli di Borgo Mezzanone, il campo del Foggiano, dove vivono in condizioni disumane decine e decine di persone spesso utilizzate per il lavoro nei campi. Per anni, oltre a essere sfruttati, sarebbero stati obbligati a pagare anche per essere accompagnati su mezzi appositamente modificati per ospitare più passeggeri del consentito al lavoro nei campi, principalmente in estate per la raccolta dei pomodori. Oltre agli arresti, due in carcere e cinque domiciliari, sono stati notificati due divieti di dimora e quattro misure interdittive. Il GIP di Foggia ha inoltre disposto il sequestro preventivo delle sedi operative, dei beni mobili e immobili e posto sotto il controllo giudiziario due aziende agricole riconducibili ad alcuni degli arrestati, il cui fatturato annuo arrivava anche a oltre 10 milioni di euro. Le indagini coordinate dalla Procura di Foggia si sono avvalse dell'ausilio del personale dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Immigrazioni, e del progetto Supreme 1 che ha messo a disposizione i mediatori culturali.